La situazione si complica per Chiara Ferragni, l'influencer italiana più famosa al mondo. Dopo il Pandoro Gate, la Guardia di Finanza ha depositato una relazione presso la Procura di Milano che potrebbe portare all'apertura di un'indagine per truffa nei confronti della moglie di Fedez. Secondo quanto riportato dall'Ansa, le fiamme gialle hanno acquisito una serie di mail negli uffici dell'antitrust che potrebbero modificare l'accusa iniziale di frode in commercio. L'ipotesi di reato che potrebbe essere formulata nei confronti di Chiara Ferragni è quella di truffa, un'accusa ben più grave. Secondo l'articolo 640 del codice penale, chiunque, con artifici o raggiri, induce qualcuno in errore per ottenere un profitto ingiusto a scapito di altri, può essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa che va da 51 a 1.032 euro. Gli investigatori della Guardia di Finanza hanno depositato una prima annotazione e consegneranno una serie di allegati al procuratore, aggiunto Eugenio Fusco. Ora spetta agli inquirenti milanesi esaminare attentamente il caso, avendo a disposizione nuovi elementi emersi dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza. Se l'ipotesi di reato di truffa verrà confermata, è probabile che presto verranno iscritti i primi nomi nel registro degli indagati. Il rischio di un danno d'immagine per Chiara Ferragni L'indagine per truffa potrebbe mettere in serio pericolo la posizione di Chiara Ferragni, che già si trova in una situazione delicata. L'influencer è stata multata dall'antitrust con una sanzione di oltre un milione di euro, ma il problema più grave per lei non è tanto la somma da pagare, quanto il danno d'immagine che ne deriva. Infatti, alcuni importanti brand con cui Chiara Ferragni aveva collaborazioni hanno già deciso di interrompere i loro accordi. Coca-Cola e Safilo hanno rescisso i contratti che avevano con la moglie di Fedez, mentre Mona Lisa sta valutando la situazione e non esclude di interrompere la sponsorizzazione con l'influencer Cremonese. Questo rappresenta un duro colpo per Chiara Ferragni, che si trova ad affrontare un momento molto difficile. Rial Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto! Grazie per la visione!